Stanno preparando un attentato contro gli amministratori del villaggio turistico Scalo dei Saraceni. Questo l'avvertimento contenuto in un messaggio anonimo recapitato al commissariato di Manfredonia. Gli investigatori si sono messi subito all'opera e sono iniziati controlli e perquisizioni nei confronti delle persone segnalate nell'esposto. Fra i controllati il gestore di un bar Matteo Armillotta di 65 anni. Un'altra segnalazione anonima, questa volta fatta via a telefono, aveva avvertito i poliziotti che Armillotta aveva acquistato droga di recente. In una abitazione da lui utilizzata in effetti è stato trovato qualche grammo di hashish e di marijuana, ma la merce più pericolosa è stata rinvenuta proprio nel suo bar. Nel bagno, dietro la base del lavandino, c'era un involucro cilindrico contenente 2,1 kg di esplosivo XM500, materiale capace di una potenza di deflagrazione di 5.500 metri al secondo. Si tratta di una sostanza particolarmente delicata, può esplodere con un non nulla, basta una vampata di calore, un urto violento o una scarica elettrica. Armillotta è stato arrestato, le indagini della polizia adesso proseguono.